Registrazione video 8K a 24 fotogrammi per secondo, Oneplus 10 Pro è l'unica possibilità di realizzare video in 8K solo a 24 fotogrammi per secondo, non è neanche possibile effettuare alcun tipo di zoom in e out così come avviene con la registrazione in questo dispositivo, con la registrazione in 4K a 120 fotogrammi per seconda la risoluzione 8K è secondo me più marketing che altro, comunque è sempre bene, è sicuramente un top e quindi ha questa caratteristica aggiuntiva che non hanno magari altri dispositivi più economici messa a fuoco, soprattutto ripeto, visto anche con lo zoom fisso che era un po' in questa risoluzione non è possibile utilizzare zoom in e out, mi sembra che anche in questo caso ci sia proprio una problematica legata alla messa a fuoco quando c'è una variazione di luminosità registrazione video 8K a 24 fotogrammi per secondo, Oneplus 10 Pro